Tre nuovi ricoveri all'ospedale Cardarelli, altre 562 contagi e 120 guariti. Questi i numeri che delineano il quadro di un'emergenza che non molla la presa in Molise. Dal reparto di malattie infettive del Cardarelli è stato dimesso un paziente di Boiano, ma sono entrate tre persone affette dal virus rispettivamente di Campobasso, Ferrazzano e Longano. La situazione dell'ospedale di Campobasso parla quindi di 22 ricoverati, di cui due in terapia intensiva, 10 non sono vaccinati. I nuovi casi si mantengono alti, sono 562, 99 i positivi emersi dall'analisi di 1.208 tamponi molecolari, 463 i casi rilevati su 2.778 test antigenici. Il tasso di contagiosità è quasi invariato rispetto al giorno precedente, si attesta su 14%. 120 persone si sono negativizzate e quindi al momento in Molise i positivi sono quasi 7.000, quasi 4.000 invece le persone in isolamento. Altri 129 casi a Campobasso, 104 a Termoli, 41 a Isernia, tra molecolari e antigenici. Andiamo da queste persone, qua veramente minera oggi comunque.